D'altra parte solamente un cazzone potevamo andare avanti, perché guardate era un cazzone e io dovevo essere cazzone. Cosa devi fare? Devi essere più cazzone di quello che te l'ha lasciata. Ricordatevi che devi fare il giochino, quando ti lasciano le cose, ti devi recuperare che te le lascia. Cazzo non so, mi pare che io ero più lungo dei vuoi del cuore. Quello che verrà ce l'avrà più lungo dei vuoi del cuore. Vedi, loro sono molto più diretti. Fagliela bene a lui, perché sono forme rassicuranti, eccetto, protezione. È il silicone quello, però. È il silicone. È no, perché la faccio cadente. È che sono scemo. Allora... Credevamo di essere appestate, che ci avessimo dei tumori incredibili, perché nessuno gli ha mai detto niente, vedevano tutto questo luogo. Uno mi ha detto guarda io pensavo di morire e nessuno mi diceva niente. Siamo oggi ancora così. Quindi grande tecnologia, ma cervellino come l'età della pietra. Sì, grazie, comincerai a essere matto, perché farai delle cose o ti comporterai in una maniera che tu ti diranno che sei pazzo. Allora, solitudine, meditazione e silenzio ti accompagneranno in una salita. Sei solo te che lo potrai sapere. Sapete che ti dicono, se incontri il Buddha o il Cristo, uccidili, perché ce l'hai dentro di te. Però sei solo. Quindi Buzzi è stato solo, come tutti gli altri, come Francesco è stato solo. Solitudine totale. È perché leữality roprie allele delle persone. Dovino gewiss logging in senza Sì, grazie.